Inizio dei saldi estivi e notte dello shopping e l'abbinamento, si spera vincente, che tornerà tra pochi giorni a Pescara. La data da segnare è quella di sabato prossimo, 3 luglio. Un modo per favorire la ripresa degli acquisti e dei consumi, un ritorno della liquidità per gli esercenti dopo le chiusure imposte dalle restrizioni dei mesi scorsi. Anche quest'anno il Comune ha inteso favorire l'accoglienza delle persone nei negozi aperti sabato fino a mezzanotte con alcuni accorgimenti. Sentiamo l'assessore Alfredo Cremonese. Siamo pronti come gli altri anni, siamo pronti per ripartire, per dare una grande mano al commercio cittadino, ai settori che sono stati duramente colpiti già in generale ma soprattutto in questo momento di pandemia. Si partirà sabato, domani mattina io convocherò le associazioni di categorie per fare una riunione definitiva sul punto, nella speranza che i negozi rimangano aperti fino a mezzanotte. L'amministrazione al canto suo sta lavorando per garantire la gratuità dei parcheggi dell'area di risulta e verificare anche l'occupazione del suolo pubblico. Stiamo aspettando un provvedimento di proroga da parte del Governo e nel caso in cui non ci fosse questo provvedimento il Comune sta lavorando per verificare la fattibilità di un'occupazione gratuita anche in questi giorni fondamentali per il commercio cittadino. Verrà ripetuta questa esperienza magari nel mese di agosto? Assolutamente sì, voglio ricordare, colgo solo un minuto, rubo un minuto del vostro tempo per ricordare che agosto e settembre Pescara sarà piena di eventi con il festival che è stato ideato dal sottoscritto e che a giorni prenderà forma con il nome ufficiale che vedrà da un lato gli artisti locali e dagli altri cinque grandi eventi, uno è stato già annunciato sui giornali e quello di Amy Stewart e poi proseguirà con il festival della rivoluzione, quindi avremo una città piena piena di gente da ogni dove, piena di turisti e Pescara che riparte e quindi in bocca al lupo a tutti i commercianti in questo delicato momento.